Ed è Caruso a vincere la seconda tappa del Giro di Sicilia 2022, lo squalo Nibali al secondo posto. Damiano Caruso si aggiudica a questa seconda tappa la Palma di Montechiaro-Caltanissetta, 152 chilometri impegnativi e molto stancanti. Caruso ha ringraziato la Nazionale e ha sottolineato come fosse un'enorme soddisfazione per lui vincere in Sicilia la sua terra. Ha ringraziato anche la Nazionale italiana perché ha fatto un lavoro perfetto tutto il giorno per lui e questa è stata la più grande delle soddisfazioni per lui che ha ribadito nel ringraziamento la sua gratitudine. Lancia il guanto di sfida dicendo che proverà a tenere la maglia giallorossa sino alla fine. E dopo i preparativi per i nissiani è arrivata così la gioia di vedere il Giro di Sicilia in città in questa edizione dove Caltanissetta è stata la tappa di arrivo per il secondo dei momenti che attraverseranno l'intera Sicilia come prevede l'itinerario. Soddisfazione degli appassionati di ciclismo ma non solo, vista la grande organizzazione e l'importanza dell'evento. Sono veramente emozionato, forse adesso mi mancano anche un po' le parole perché sto metabolizzando quello che è successo però voglio ringraziare tutti perché il calore che da più di un anno a questa parte percepisco dalla gente è veramente qualcosa di speciale.